Quest'anno è servito anche per capire, onestamente io sono agrigente del suo territorio, perché vanno così, è lo stato d'animo di questa città, non è stato d'animo pessimo, onestamente, una città che, torno a ripetere, rigeniamo ancora a maggiore forza del tentare. Non può cambiare le cose, ma proprio prospettiva visiva, aiutando alcuni processi e alcune situazioni. Alcune cose siamo riusciti a farle. Se vi ricordate il discorso della fondazione è partita con il tentare di Rini. In realtà sono arrivati un centinaio, un centinaio, perché però non hanno un grosso impatto, non potrebbero avere un grosso impatto. All'esterno ci hanno visto in determinato modo, l'hanno analizzato e su quella, partendo da quello studio, alcune persone per fare delle vostre studio di turismo sostenibile in America, e fare qualcosa che in altre parti del mondo non riescono ad avere. Grazie. Grazie.